Nuovo appuntamento con l'informazione sul traffico in Toscana di Florence Multimedia. Un cordiale saluto da Andrea Biagioni. Traffico sostanzialmente regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. Si invita semplicemente alla prudenza tra Barberino e Fabro in A1 e su tutta la tratta stradale della Fipili a causa della pioggia. Sulle raccordo Siena-Firenze fino alle 5 ottobre si ricorda che a Pogibonsi Nord sono chiuse le rampe di ingresso e di uscita per chi viaggia verso Siena. Treni il regionale 95-55-9 diretto da Pontremoli a Firenze-Santa Maria Novella viaggia con 71 minuti di ritardo, arriva a Santa Maria Novella alle 18.45. Uno sguardo alla città di Firenze con i disagi a causa di un incidente che ha provocato il restringimento della corsia in via di Novoli all'intersezione con via Lori. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!